Da oltre 25 anni IMAC offre ascolto, orientamento, accoglienza e sostegno psicologico ai malati di cancro e alle loro famiglie, rispondendo in maniera chiara, semplice ed efficace ai loro dubbi e ai loro bisogni informativi. Nell'ambito del progetto per mano IMAC ha attivato un servizio di consulenza online di supporto psicologico rivolto ai genitori per aiutarli nel processo di elaborazione della malattia del figlio e nella comunicazione dell'esperienza all'interno del nucleo familiare. I gruppi di sostegno psicologico sono dedicati ai genitori di bambini e adolescenti con una diagnosi oncologica, sono a cadenza quindicinale e sono previsti sei incontri per ciascun gruppo attivato con un massimo di otto partecipanti per ogni gruppo. Per mano per me è condivisione, riconoscimento di emozioni contrastanti, fragilità e determinazione e speranza. Grazie a tutti.